La questione delle barriere architettoniche all'esterno della chiesa di Santa Maria della Mercede a Fontana. Rosa Iacono, di che cosa stiamo parlando? Qual è il problema? Il problema in questo momento proprio che l'avete accennato è che ci stanno le barriere e non si possono portare gli ammalati sopra. Sono due anni che ho trovato un geometra che ha fatto il progetto con tre opzioni. Sarebbe l'ascensore, sarebbe un montacarico e uno scivolo da poter entrare dentro, però attualmente non rimane tutto così, è rimasto e non si prende un capo da poterlo portare avanti, come quale sia sia l'opzione. Le tre opzioni so che sono sistemate all'esterno della chiesa per consentire ai cittadini, ai fedeli di poter esprimere la loro opinione, di firmare per questo, per quello. Quindi c'è una scelta che la gente può fare? Come no, può fare come. A me mi hanno diciamo lo scivolo, dice Rosa sarebbe bello, però viene un pochino troppo in pendenza, dice non è possibile fare questo. L'ascensore dice dovrebbe venire nell'angolo dove sta la curva e non è possibile perché è un posto molto pericoloso, l'unica opzione sarebbe dove sta il giornalario, l'unico posto da mettere questa cosa, da mettere lì. Ma io dico solo una cosa, ho una cosa o l'altra, che venga al più presto fatta perché si risolve il problema. Però ecco, essendo io che mi ritengo sempre presidente dell'Associazione dei disabili dell'Isola Dischi, io questa cosa l'ho fatta, l'ho presentata a tutte le autorità di competenza, anche il Vescovo, diciamo, perché non è solo alla Madonna di Mercedes che si devono abbattere le barriere, ma in tutte le parrocchie, perlomeno una, in ogni comune, se ci sta, per dare la possibilità al diversamente abili che si trova sulla sedia a rotelle di entrare in chiesa. Il giorno 24, sabato, hanno organizzato praticamente una benedizione per gli ammalati e avevamo l'intenzione di poter trasportare sia gli ammalati di Villa Mercedes che altri ammalati dell'Isola. E fondamentalmente non è stata possibile questa cosa, poiché per mezzo delle barriere architettoniche abbiamo dovuto selezionare pazienti di Villa Mercedes. E ovviamente la lista da 20 si è scremata a 7-8 pazienti, dato che comunque è impossibile, per le responsabilità che ovviamente ne sussistono, trasportare dei pazienti in carrozzina fino alla chiesa. Questo significa che proprio, significa privare delle persone dal partecipare ad una celebrazione religiosa. Da qui, vero Maria Pia, la necessità di intervenire al più presto? Sì, infatti noi ci appelliamo comunque alle istituzioni comunali e alla parrocchia in modo tale da eliminare queste barriere architettoniche e di chiedere comunque, di rendere più accessibile la partecipazione di questi ultimi alle messe e comunque agli eventi organizzati dalla parrocchia.